E' da 15 anni che mio fratello, ogni volta che andiamo a Luna Park, prova a portarmi sulle montagne russe. E io cerco sempre di balottare con la ruota panoramica, perché è più lenta, più suggestiva, non rischio di vomitare ogni volta. E poi lui non lo sa, ma tanto a me basta venire qui per essere travolta da montagne russe. Rossella Antonio Montagne Rosse Di Eric Assouz Je suis Juliet Pierre Bene Come mi hai chiamato? Quelle che fanno su e giù le odio Ci sono stato non tantissimi anni fa e ho avuto dei grandissimi disagi Io ho una foto di Alda Merini No, io non tengo quasi mai dei portafortuna, a meno che siano legati proprio a quella circostanza, a quel determinato spettacolo Che in fondo è sempre vera Mi piace soprattutto la fragilità umana Ha aspettato troppo In realtà sono più le cose che mi piacciono Un grande bisogno d'amore In tante cose, alcune mie storie personali si avvicinano parecchio, anche io non cerco mai di nascondere quello che sono Meravigliosamente spiazzante Esplosiva E' una bella storia Tocca il cuore col sorriso E' uno spettacolo scritto in una maniera straordinaria Bellissimo Uno spettacolo divertente Io dove sono? Io non penso molto, mi guardo e talvolta dico, tu chi sei? Dopo un attimo metto a fuoco e dico, ah sì, ci siamo già visti Mi piace immaginare cosa sognerò Penso un po' a tutto quello che ho fatto durante la giornata E' una bella storia